La possibilità di abbinare l'ingresso alla primavera con l'ingresso alla prima squadra, siccome questo weekend offre la possibilità di giocare entrambe le partite contro il Novara, la società ha deciso questa iniziativa che speriamo sia seguita da numerosi appassionati e tifosi, sappiamo anche che la primavera sta suscitando simpatia e interesse da parte di tutti i tifosi dell'Entella, quindi ci auguriamo che possa essere il viatico per poi seguire anche la prima squadra domenica. Mi raccomando, sabato e domenica tutti allo stadio. La primavera ha bisogno dei suoi tifosi. Perché l'Entella è una sola. L'Entella siamo noi. E andiamo! L'Entella siamo noi.